Voi direte che di fronte a tutta questa messe di notizie la politica italiana si è bloccata e sta cercando di analizzare la portata di tutte queste cose, soprattutto quelle con cui abbiamo aperto il giornale. Invece... San Giuliano, il suo predecessore, ha scelto per la guida di Ales, ha scelto uno il cui curriculum è impresentabile e ridicolo. Inizia così il duello rusticano tra Matteo Renzi, il neoministro della Cultura Giulia, e il presidente del Senato Ignazio Larussa, terzo incomodo. L'accusa messa a verbale è sospetto amichettismo. Renzi chiede l'UMI su Fabio Tagliaferri, fedelissimo di Meloni, a Piazza Pulita ha detto che si è formato guardando i video dell'allora presidente di Fratelli d'Italia. Le domando che ci azzecca con Hegel e la rivoluzione permanente dell'infosfera, un NCC di Frosinone, la provocazione dell'ex premier. Sentiate, prometto da oggi che farò del mio meglio per adeguare il mio eloquio alle capacità cognitive del senatore Renzi. Ne ringraziare gli onorevoli interroganti... Vuole aggiungere qualcosa, onorevole? Ales è sottoposta a disciplina pubblica regolata da leggi che immagino il senatore Renzi conosca, continua Giulie. È andata così, aggiunge, con tono confidenziale via attaccate al gossip, al chiacchiericcio, dice ancora il ministro. Prima di andare avanti c'è da dire che il Question Time è una specie di combattimento su tre riprese, con tempi precisi e nella seconda parte della sua risposta che il ministro, Giulie, attacca frontalmente Renzi. Da premier nominò Antonella Mansione, ex capo della Polizia Municipale di Firenze, alla presidenza del Consiglio. Che a suo tempo mi lusingai, mi lusingai, di difendere in pubblico dall'inaccettabile accusa di aver trasformato Palazzo Chigi in un comitato d'affari paesano. Grazie. Mentre si rivolgeva a me, l'ho vista tremare, inizia la sua controreplica Renzi, a questo punto che arriva alla russa, secondo Renzi, in modo indebito. E dall'alto, presidente, faccia l'arbitro, non faccia il supporter, si limiti a tifare Inter, fratelli d'Italia la tifa in un'altra sede, anche lei, stia al suo posto, la ringrazio. Senatore Renzi, non trasformi il Question Time in un'occasione di polemica. Avrò facoltà cognitive limitate, ma mi sono laureato in tempi decenti, cosa che mi auguro possa capitare anche a lei, continua Renzi, che ormai lanciatissimo cita Monicelli e la supercazzola, ricorda che Giulia appellò in passato, non lontanissimo, Putin come patriota. La questione dovrebbe finire qui, perché i round, come dicevamo, sono tre stavolta. Però la cosa va avanti. Giulia deve rispondere a un'altra interrogazione, ne approfitta per rifilare una controstoccata. Al G7 della cultura di Napoli non ha partecipato la Russia, impegnata a godersi un miliardo di euro di rapporti commerciali, siglati nel 2016 dal governo guidato da persona qui presente. Laureato, però, ironizza. È il caos. Renzi e i senatori di Tagliaviva insorgono contro il ministro, la russa li zittisce e anzi critica Renzi per aver replicato in modo non corretto. Il veleno, come succede spesso, è nella coda. Renzi, che nell'interrogazione a Giulia aveva anticipato che in caso di mancati chiarimenti sulla nomina di Tagliaferri avrebbe presentato un esposto in procura, aggiunge, finita la seduta, che la russa avrebbe avvicinato i senatori del suo partito per convincerli a votare la nomina del membro della Corte Costituzionale, saltata poi per mancanza di numeri. La russa è andato a pranzo con la senatrice d'Italiaviva Daphne Musolino e un modo sbagliato la frecciata di Renzi. Volevano il mio voto in cambio dell'ingresso in maggioranza, ha confermato la diretta interessata, nessun pranzo mai parlato con lei di voti, la smentita poco fa del presidente la russa.